Musica Ben ritrovati al TG Canavesi in due minuti, le notizie di oggi, mercoledì 24 gennaio. Sgominato un'associazione a delinquere dedita alle truffe, alle prime luci dell'alba i carabinieri hanno dato esecuzione nell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e altre emesse al GIP del Tribunale di Nuoro in piena condivisione con le risultanze investigative acquisite nei confronti di 20 indagati, tra i quali due canavesani. Il procedimento penale della Procura di Nuoro è nato nel 2017 dal suicidio sospetto di un 39enne, residente in Piemonte, ma di origini nuoresi. Tanta gente a caselle torinese per l'ultimo saluto a Franco Cossa, molto conosciuto nell'ambiente giornalistico sportivo, per aver nel corso degli anni Ottanta raccontato le geste sportive delle squadre torinesi Juventus e Torino. Il cronista si è spento domenica 21 gennaio all'età di 77 anni per una malattia degenerativa nella residenza integrata sociosanitaria a Nuovo Baolino. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, i militari della stazione Carabinieri di Ivrea e del nucleo radiomobile di Ivrea, hanno passato a setaccio la zona del Movicentro, identificando oltre 50 persone e perquisendo le 27, 8 di esse, tra cui studenti d'età compresa tra i 17 e i 23 anni, sono stati trovati in possesso di altrettante dose di marijuana. Convocazione urgente del Consiglio metropolitano per venerdì 26 gennaio alle 15. All'ordine del giorno l'espressione del parere della città metropolitana sul progetto di fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco. La deliberazione, che sarà sottoposta all'attenzione e al voto dei consiglieri, esprime parere favorevole al progetto di fusione dei tre comuni confinanti, che fanno parte del territorio della zona omogenea 8 e Porediese. È stata bonificata la zona al fondo di Viale Italia a Brandizzo. Dal novembre 2017, Alternativa Civica aveva sollevato la questione in seguito alla segnalazione ricevuta dai cittadini. In questi giorni l'area è stata ripulita dalle enorme quantità di rifiuti che sono state trasferite all'ecocentro comunale di Via Barra. Alessia De Fazio, 25 anni di Rivololo Canavese, sarà una delle quattro protagoniste di Otello L'Ultimo Bacio, musical nato grazie alla volontà del cast tecnico e artistico già coinvolto nello spettacolo di successo mondiale, Notre Dame de Paris. La produzione ha dato ufficialità nei giorni scorsi al cast dello spettacolo e componenti del corpo di ballo, tra i quali la giovane canavesana. È tutto per questa edizione, vi ricordo per le altre notizie potete collegarvi a www.btvnews.it oppure scaricare l'app gratuito ad Apple Store o Google Play. Buon proseguimento in serata! Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, tempo in peggioramento nei prossimi giorni con l'avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione foriera di qualche pioggia. Vediamo allora come sarà il tempo per giovedì 25 gennaio. Al mattino qualche piovigine potrà bagnare Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto ma con molte nubi, specie sulle regioni settentrionali. Sempre più instabile al pomeriggio al nord e con piogge sparse fin sull'Alta Toscana e neve sulle Alpi. In serata e poi inottata la situazione non è destinata a cambiare con fenomeni sparsi sulle regioni settentrionali accompagnati da nevicate sulle Alpi fino a quote medie e tempo più asciutto al centro-sud. Attenzione solamente a qualche isolata piovigine sulle coste del Lazio. Sotto il profilo termico giovedì le minime sono attese in leggero aumento, mentre le massime tenderanno a diminuire. Non dimenticate di scaricare gratuitamente la nostra app Meteo oppure di visitare il nostro sito per avere tutte le previsioni dettagliate per le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.